Un centinaio di familiari delle vittime dell'incidente ferroviario di sabato scorso in Cina hanno inscenato una manifestazione davanti al palazzo di città di Guangzhou. Protestano contro la cortina di silenzio calata sul disastro ferroviario costato la vita da almeno 39 persone. Un silenzio imposto dalle autorità che hanno perfino ordinato ai giornali di non pubblicare altro che le informazioni ufficiali. L'incidente avvenuto nella provincia dello Zizhang è stato causato dallo scontro tra un treno ad alta velocità ed un convoglio costretto a procedere lentamente su un viadotto per una panna. Delle vittime due erano straniere, una italiana e l'altra statunitense. Le autorità fanno sapere che i vertici degli uffici ferroviari di Shanghai competenti sulla tratta sono stati rimossi in blocco.